Nell'estate del 1943, a seguito della fine dell'alleanza tra Italia e Germania, venne a formarsi è quello che fu la resistenza italiana, ovvero il più importante e vasto movimento d'opposizione al nazifascismo. Al proprio interno, tale movimento ebbe insita una pluralità di animi e di espressioni, in quanto vi presero parte persone di ogni età, sesso, censo, orientamento politico e religioso, tutti con l'obiettivo comune di liberare la nazione da quello che fu il nemico interno e da quello che divenne il nemico esterno e dunque dal fascismo e dall'occupazione tedesca. Vi presero parte inoltre tutte quelle fazioni, forze e correnti che presero posizioni antifasciste e di conseguenza liberali, democratici, democristiani, socialisti e comunisti. La resistenza si può definire in primo luogo come una lotta di tipo politico-morale armata e in secondo luogo come una lotta di opposizione civile, spesso disarmata. Venne inoltre affiancata da quello che viene propriamente definita resistenza militare, in quanto messa in atto dai militari sia nel momento immediatamente successivo alla firma dell'armistizio, che in un momento successivo, soprattutto grazie alla riforma da parte del Regno del Sud, delle forze armate, dando vita così al primo raggruppamento motorizzato e ai gruppi di combattimento. I tedeschi, in seguito alla firma dell'armistizio, a causa della sproporzione che era a loro favorevole tra le proprie forze e tra quelle italiane, cominciarono a depredare, derubare, sequestrare beni sul suolo italiano e compirono numerose stragi di civili e arrestarono circa 800.000 soldati italiani, il ruolo dei quali fu fondamentale, in quanto questi, venendo in seguito deportati nei lager, con streno valore morale ed etico, riuscirono a mettere in pratica una resistenza disarmata, rifiutando di non aderire mai al Reich e dunque di ostacolare l'avanzata del nemico dall'interno. Vi furono inoltre militari che, avendo visto da vicino e vissuto sulla propria pelle quello che fu propriamente la guerra di regime, decisero di non aderire al fronte nuovo del fascismo repubblicano, che fu spesso causa di disordini e di violenze, bensì decisero di aderire al fronte antifascista. La resistenza ebbe dunque uno sviluppo fortemente complesso e in alcune aree anche disomogeneo e frammentario. Infatti molti erano costretti ad operare in condizioni di segretezza e in difficili condizioni, per esempio con scarsità di mezzi oppure con grande difficoltà nei contatti e nei collegamenti. In un primo luogo i tentativi di resistenza vennero fortemente ostacolati a causa dei grandi rastrellamenti messi in atto dai tedeschi, ma in un secondo luogo il movimento per la liberazione ottenne una maggiore e profonda radicalizzazione nel territorio, soprattutto grazie al supporto e al maggior consenso ottenuto da parte della popolazione. Questo fece sì che le prime bande di formazione partigiana diventarono vere e proprie brigate organizzate, come per esempio le autonome, le Garibaldi, le Mazzini, le Giustizia e Libertà oppure moltissime altre. e parallelamente nelle città vennero a formarsi le squadre e i gruppi di azione patriottica che operarono attuando propaganda, sabotaggi, guerriglia urbana e reclutamento. In un secondo momento, nel 1944, vennero attribuiti al Comitato di Liberazione Alta Italia i poteri di governo straordinario, venendo riconosciuto tale comitato come un vero e proprio rappresentante politico. Questo fece in modo che le numerose formazioni partigiane venissero coordinate all'interno del Corpo Volontari della Libertà e venissero istituiti anche numerosi comandi militari regionali a loro supporto. In seguito, con la progressiva avanzata degli alleati, numerosi territori italiani vennero sottrati al comando tedesco, come per esempio in Emilia Romagna, l'Appennino Modenese e la provincia di Parma, oppure anche terre in Liguria e in Lombardia che tarono vere e proprie zone libere. Questo però dall'altro lato comportò lo scatenamento di violente offensive tedesche che obbligarono i partigiani ad abbandonare le proprie valli e i propri paesi, in quanto questi vennero presi fortemente di mira, specialmente tra il 1944 e il 1945 anche sulle montagne. Infine, nella primavera del 1945, il movimento per la riparazione riuscì a tornare nel pieno vigore delle proprie forze e grazie anche al supporto degli alleati, in particolar modo grazie al rifornimento di armi messo a disposizione da questi, il 25 aprile 1945 riuscirono, in seguito allo sfondamento della linea gotica e all'unione dei corpi di combattimento locale, riuscirono a liberare il nord Italia dall'occupazione naziofascista. Come abbiamo potuto brevemente vedere, dall'8 settembre 1943 fino rispettivamente al 30 aprile 1945, l'Italia venne attraversata dalla guerra e dalla ritirata delle armate naziste. A sud vi erano gli alleati, mentre a nord vi erano i tedeschi e i repubblichini di Salò. In particolar modo in Italia, seguito dalla firma dell'armistizio, venne divulgato un fonogramma che affermava di considerare i tedeschi come nemici e di agire di conseguenza. L'eccidio di Barletta viene oggi considerato come il primo atto di rappresaglia compiuto dai nazisti in territorio italiano in risposta all'uccisione di alcuni militari tedeschi. L'eccidio avvenne tra il 12 e il 14 settembre 1943 nella città di Barletta, che venne per questo insegnita di due medaglie al valore. E quanto successe lo sappiamo grazie alla testimonianza diretta di Maria Grasso Tarantino, figlia del colonnello Francesco Grasso, la quale afferma Mio padre, per evitare la distruzione della città, prendendo su di sé ogni responsabilità, accettò la resa. I tedeschi entrarono così nel castello. Anche a Barletta la compagnia di propaganda tedesca costruì con cura le immagini affinché emergesse evidente la pochezza dell'esercito italiano di fronte allo strapotere della Wehrmacht. I prigionieri cinicamente ripresi dopo la resa erano militari non armati, erano gli addetti ai servizi sedentari, cuochi, inservienti, impiegati e non appartenevano ai reparti che avevano combattuto con onore la battaglia di Barletta, che avevano avviato il passaggio da un'idea di patria autoritaria, antidemocratica e fascista ad un'altra nuova, repubblicana e democratica. A Barletta persero la vita in combattimento 37 militari, ma cadaveri di decine o centinaia di altri soldati non si sa bene, furono ritrovati intorno alla città. I nazisti uccisero anche 24 civili, ne ferirono 65, in genere povera gente sorpresa a rubare per sostenersi e massacrarono 10 vigili urbani e due netturbini. Mio padre non fuggì come fecero tanti in quei giorni bui, fu aggredito dai tedeschi, ferito e sanguinante e venne deportato nei lager nazisti, seguendo il destino dei 650 mila soldati italiani catturati e deportati. Lui stesso scrisse in un diario durante la prigionia, ho avuto l'invito ad aderire al fronte del lavoro. Ogni adesione significa collaborare e dare ai nostri nemici la possibilità di una più lunga resistenza. Io risponderò sempre no. Il ruolo del colonnello fu dunque fondamentale per la città di Barletta, in quanto egli, prima dell'arrivo delle truppe tedesche, chiese di far saltare il ponte sull'Ovanto, ma questo a causa di un comando superiore mai accertato non venne mai eseguito. In seguito all'avanzare delle truppe tedesche chiese anche supporto al comando militare di Bari, ma purtroppo la sua richiesta d'aiuto venne velocemente liquidata chiedendogli espressamente una relazione scritta sulla situazione e sulle circostanze, ma purtroppo per questo non vi era tempo. Inoltre fu un uomo che per salvare la città decise di accettare la resa e non aderire mai al fronte nemico, portando avanti la sua resistenza senza armi fino a luglio del 1945, quando venne liberato all'interno del lager in cui era stato deportato. Al colonnello è stata dedicata anche una via poco fuori dal centro della città di Barletta che per le persone del luogo ha una valenza fortemente significativa, tanto quanto ce l'ha il monumento ai caduti nei pressi del quale sul lato sinistro delle poste vennero in seguito ad essere stati perquisiti e appositamente fotografati da un generale tedesco, vennero fucilati i dieci vigili urbani insieme ai due netturbini. Rispettivamente vennero fucilati con tre raffiche di mitragliatrice, una prima al petto, una seconda alle gambe ed una terza sull'intero gruppo. Nel settembre del 2001 venne identificato come colpevole dell'ecidio il maggiore Kurt Gossenkheim, comandante del secondo battaglione primo reggimento prima a divisione di paracadutisti morto precedentemente il 26 marzo 1996. Venne anche individuato come presente grazie ad alcune fotografie il comandante del primo reggimento tenente colonnello Walter Geriche, fotografie che vennero esibite come prova dalla stessa figlia del colonnello Grasso presso il tribunale militare di Bari, ma che purtroppo vennero vergognosamente ignorate. Il 23 agosto 1944, la 26esima divisione delle Coralzate Tretti di Piazza di Piazza, e gli ordini del generale Krasman e del maggiore delle SS Strauch massacrò 27 bambini, 63 donne e 94 uomini, per lo più vecchi, che si erano radunati presso il patore di Fucecchio. Questa è un'area paludosa che si trova in Toscana, la regione che fu maggiormente colpita dalle stragini azifasciste e coinvolge nello specifico le province di Pisa, Prato, Lucca, Pistoia e Firenze. Nell'estate del 1944, per sfuggire ai bombardamenti e ai rassati dei tedeschi, erano state molte le famiglie, fra i sé anche qualche partigiano, che pensarono di sfuggire e di radunarsi in questo territorio, considerato sicuro perché lontano dai centri abitati. Eppure, in un giorno di fine estate, il 23 agosto, i carri armati del generale Krasman circondarono il Padule massacrando civili inermi e innocenti. Questo fu probabilmente un segnale di ammonimento nei confronti della popolazione qualora avesse prestato aiuto ai partigiani. Gli soldati che parteciparono all'eccidio, di ritorno alla loro spedizione, dichiararono di aver ucciso 200 partigiani. In realtà, dalle indagini che furono in seguito condotte e poi riportate nella sentenza, è così scritto. Durante il rastrellamento, nessuno dei partigiani è stato individuato e colpito. Viceversa, soltanto contro inermi e pacifici contadini, molti dei quali vecchi, contro donne e contro bambini in tenerissima età e addirittura di pochi mesi, i tedeschi hanno commesso atrocità avverranti e gesti di inumana barbarie. In totale furono trovate 174 vittime civili e i partigiani trovati uccisi furono solamente due, Enrico Magnani ed Enrico Bianchini. A queste stragi ci furono alcuni sopravvissuti che svolsero un importante ruolo per le indagini e per le regolazioni per il processo successivo come testimoni. E queste sono alcune delle scene a cui, riportate nella sentenza a cui hanno assistito. Oreste Silvestri vide due soldati che andavano incontro ad Antonio, un bambino di 27 mesi che stava piangendo fra le braccia della madre morta, annunziata a Mazzei. Uno lo colpì alla testa con il calcio del fucile, azzittendolo. Ancora, Bruna Bartolini disse che curò prima della morte Anita Silvestri. Aveva notato che i suoi abiti non erano in disordine. Il giorno dopo, quando vide il cadavere, si accorse che non aveva le mutande. In la gonna era tirata su fino alla cintola. Era stata violentata dopo il decesso. Quali sono le motivazioni concrete, le motivazioni reali che hanno portato i tedeschi a compiere dei gesti simili? Innanzitutto, in quel momento storico della guerra, i tedeschi si stavano ritirando presso la linea gotica che si trovava sugli aquinini di Pistoia, da cui il Padule distava pochissimi chilometri. Era quindi un territorio, un luogo strategico nel quale non potevano permettersi di subire attacchi. Infatti, quell'area, originalmente, doveva essere la base operativa delle bande di partigiani operanti nella zona. In realtà, poi, l'area non arrivò a contare più di 30 individui attivi, a causa della rinuncia di molti all'azione e all'impreparazione militare. In secondo luogo, svolsero un ruolo fondamentale le direttive emanate dal federme maresciallo Kesselring, che gestiva le truppe dislocate su quel territorio. Infatti, la sua linea dura ed intransigente fu giustificata dalla lotta alle bande armate. I militari, i soldati, avevano la possibilità di aprire il fuoco su chiunque fosse sospettato di essere partigiano o di prestare aiuto ai partigiani. Inoltre, fu garantita ad essi un'impunità militare, qualora avessero compiuto qualcosa di scorretto o di eccessivo. Insomma, fu data loro carta bianca, la possibilità di uccidere chiunque ritenessero colpevole. Sulla strage, al termine della guerra, furono aperte due commissioni di inchiesta, una d'opera degli Stati Uniti d'America e una della Gran Bretagna. Quest'ultima fu particolarmente accurata, aprì infatti una sezione investigativa speciale per indagare sui crimini commessi dalla Wehrmacht sulla popolazione italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco quindi che Edmondson, l'incaricato del World Office di Londra, a partire dal 5 febbraio 1945, avviò un'importante raccolta di documenti, indagini, testimonianze che portarono a costituire successivamente a Venezia il processo che avrebbe dovuto vedere condannati i più importanti criminali di guerra, in totale 45. Durante la sentenza, durante il processo, lo Strauch dichiarò di non aver partecipato all'eccidio, ma di aver trasmesso integralmente quelli che erano stati gli ordini del Kraseman, cioè uccidere e sparare sulla popolazione senza nessuna distinzione di sesso ed età. Kraseman invece da parte sua negò di aver dato questo tipo di ordine. In realtà le indagini condotte rivelano un comportamento simile in tutti i reparti, in tutte le truppe dislocate in quel territorio e facendo pensare quindi, provando quindi che l'ordine fu dato dall'alto e quindi appunto da Kraseman e sopra di esso ovviamente Kesselring. In realtà poi nella sentenza è così scritto, dispone l'articolo 40 del codice penale militare all'ultimo comma che risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato. Nella fattispecie lo Strauch ha dato integrale esecuzione all'ordine manifestamente criminoso del Kraseman e che tale attività fosse stata volontaria e cosciente non c'è minimamente da dubitarne. Né alcuna rilevanza giuridica può avere la circostanza adotta dalla difesa di avere lo Strauch agito per il vincolo disciplinare dell'obbedienza che lo legava al suo superiore comandante della divisione generale Kraseman, poiché la chiarezza dell'articolo 40 sopra citato, che trova peraltro piena corrispondenza nello stesso codice militare tedesco al paragrafo 47, pongono un limite assoluto e inderogabile al principio gerarchico dell'obbedienza cieca. Limite costituito appunto dalla manifesta criminosità dell'ordine e oltrepassando tale limite, evidentemente, non si agisce più da soldati ma si delinque e la manifesta della delittuosità dell'ordine dato dal Kraseman era di uccidere barbaramente senza discriminazione alcuna, senza necessità e senza giustificato motivo civili inermi. In totale la condanna avrebbe dovuto prevedere 27 anni di carcere ma furono prese in considerazione numerose attenuanti, ecco quelle riportate nel processo. La diminuente per netti di valore e le relative decorazioni riportate dal giudicabile nel corso della guerra che la Germania ha combattuto durante l'alleanza con l'Italia. L'attenuante è perché si ravvisa nella specie che l'imputato ha dato integrale esecuzione agli ordini ricevuti per accesso di zero. Un'altra attenuante trova fondamento nel particolare stato di esasperazione d'animo del giudicando e degli altri tedeschi presi di mila dei partigiani. E infine, non si può non riconoscere che l'imputato, dopo l'azione, si è adoperato spontaneamente ed efficacemente per l'invio di soccorsi sanitari. Insomma, gli anni da 27 che avrebbero dovuto essere ben presto diminuirono a 6 e successivamente a 3. Kesselring, invece ritenuto colpevole perché fu evidente che gli ordini erano stati imposti dall'alto, inizialmente fu condannato alla fucilazione. In seguito, la spina fu cambiata in 21 anni di carcere e con una declaratoria del 1952 venne addirittura scarcerato per le sue condizioni di salute. Un effettivo riconoscimento le vittime di questa strage lo erbbero solamente nei primi anni del 2000, quando l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Zaglio Ciampi, inaugurò a Castelmartini e presso il Padule del Fucecchio dei monumenti commemorativi per le vittime di di questa strage. Questa vicenda si trova, insieme a molte altre, raccontata all'interno di alcuni fascicoli rinchiusi per molti anni all'interno di un armadio nel Palazzo Generale della Procura di Roma. Vi sono numerose storie, oltre a questa vi è anche quella di Sant'Anna di Stazema, un episodio doloroso, tragico, anche perché i suoi esecutori morirono tutti in libertà prima della via del processo e quindi le vittime di questa strage non videro mai un riconoscimento di una giustizia legale. Nonostante ciò, quando fu scoperto l'insabbiamento di tutte queste pratiche, il contributo del Sindaco del Paese e della popolazione per ricostruire la vicenda e per commemorare queste vittime fu di fondamentale importanza. Contribuirono anche il giornalista Franco Giustolisi, autore del testo L'Armadio della Vergogna, che si propone il compito di portare alla luce, di portare all'opinione pubblica, far conoscere all'opinione pubblica queste vicende per poter restituire dignità alle vittime di questa strage e per non dimenticarle mai più. L'avanzata degli alleati a seguito dello sbarco in Sicilia costringe i tedeschi ad abbandonare la linea Gustav per ripiegare sulla linea Hitler a qualche chilometro più a nord. Queste linee sono opere di difesa fortificate, posizionate in modo da sbarrare il passo agli alleati, alleati che cominciavano veramente ad avanzare verso nord, per esempio con lo sbarco di Anzio, un importante passo per la riconquista della capitale. L'ultima linea su cui i tedeschi si attestarono fu la linea gotica, situata più o meno nell'Italia centro-settentrionale. In questo territorio la popolazione si era notevolmente accresciuta, arrivati all'estate del 1944, perché con gli alleati che spingevano verso nord e i tedeschi che ripiegavano nella stessa direzione anche il fronte bellico si spostava costringendo le popolazioni locali civili a muoversi con esso e quindi a trasferirsi in quest'area, quindi in Toscana per esempio. Ed è in Toscana che si trova Sant'Anna e Stazema in provincia di Lucca. Osservando infatti una mappatura delle stragi naziste compiute in Italia in questo periodo, non si può non notare che la maggior parte si concentra proprio in quest'area e si parla di un periodo compreso tra l'agosto del 1943 e il maggio del 1944. Questi territori sono infatti, come detto prima, il teatro della linea gotica. Molte di queste stragi sono state accertate dagli storici come rappresaglie. Infatti i nazisti eseguivano centinaia di massacri come reazione anche ai sabotaggi che subivano da parte delle brigate partigiane. In questi territori operò la sedicesima SS Panzergranadia Division, eseguendo numerose attrocità ai danni dei civili di Nozzano, Marzavotto, Sant'Anna e Stazema. Però si tratta di civili senza armi, sono vittime innocenti. Dunque omicidi non rappresaglie. I fascicoli di quegli eccidi affluivano poi nel palazzo sede della procura generale militare a Roma. Questi documenti recavano i nomi delle vittime, i nomi dei carnefici e i nomi delle località dei massacri. Tutto veniva occultato in un armadio. Questo armadio, definito armadio della vergogna, è il protagonista del libro di Franco Giustolisi. La descrizione che Giustolisi fa di questo armadio nel suo libro rende pienamente il tentativo di insabbiare, di nascondere, di stendere un velo su queste vicende. La descrizione di quei misfatti, le prove, le testimonianze vennero scoperte per caso mezzo secolo più tardi. Erano nascoste in quel vecchio armadio nella sede della procura generale militare. Lo avevano rifilato in un vano recondito protetto da un cancello con tanto di lucchetto. L'armadio, l'armadio della vergogna, aveva le ante chiuse a chiave rivolte verso il muro. Nascondere, quindi, cercare di non far sapere le cose, ovviamente, significa uccidere ancora quelle persone. E anche qui risiede il senso del ricordo. Certi fatti, come si leggono per esempio nel libro, non possono sicuramente essere dimenticati una volta che vengono alla luce, una volta che l'animo di una persona ne viene a conoscenza ed è un impatto sicuramente molto violento. E quindi bastano i fatti per ricordare. Noi non possiamo restituire alcunché a queste persone, non si può fare altro che cercare di conoscere, di conoscere ricordando. La giustizia storica, forse, è quella del ricordo, più che una giustizia reale, una giustizia concreta. E questo è quello che possiamo fare, quindi cercare di ricordare per evitare che muoiano ancora quelle persone. Come ho detto, questi fatti parlano da soli. L'unico ricordo è il fatto. E il fatto era contenuto in quei fascicoli, in quell'armadio, che per fortuna, anche se con mezzo secolo di ritardo, però per fortuna è venuto alla luce. Adesso l'armadio della vergogna non è più lì, forse rimosso, forse distrutto. incolpevole scrigno di così pesanti segreti. Rimosso o distrutto, forse, per annullare un passato che la memoria degli uomini non può e non deve annullare. Follà da Moskwa, down to Gawki Park, listening to the wind of change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment, on a glory night, where the children of tomorrow dream away, in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. The future's in the past forever, follow the Moskwa, down to Gawki Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of change. On a glory night, where the children of tomorrow dream away, in the wind of change. The wind of change. The wind of change flows straight into the phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. Hope is our mind. Hope is your mind. Floyd Mayày 5,000 on a drie, eight Haver tinge. Ready home for seven years news are Cartesian living? Hope is your mind.